ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale l'angolino di lori ragazzi sono lorenzo da qui lori e questo è il mio angolino dove carico video di ogni tipo mi diverto facendo ogni cosa mi passa per la testa oggi ragazzi andremo a vedere il mio orologio una mazfit gts ma questo ragazzi non è la recensione questo ragazzi è alla dimostrazione di un bug che ho trovato all'interno di questo sistema operativo allora noi entrando nel tra le app clicchiamo in impostazioni anzi intanto andiamo su sistema info versione del software 1.2.03 se noi andiamo qua e cliccare sul riavvio c'è scritto conferma di riavviare il cellulare c'è no ragazzi rendiamo conto questo orologio si ritiene un cellulare se io clicco qua spento l'orologio vabbè questo qua si ritiene un orologio ma com'è che se io vado qua a riavviare dice conferma di riavviare il cellulare ragazzi vedete non sono un pazzo cioè non lo so ragazzi fatemi sapere ragazzi che cosa ne pensate voi questo qua era un video abbastanza veloce e giusto per far vedere questa cosa e ragazzi se lasciate abbastanza mi piace avete anche ragazzi una recensione su questo orologio un amazfit gts anche molto utile devo dire bene ragazzi su questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e niente ragazzi dall'angolino di loro ripete tutto al prossimo video ciao ciao